Allora eccoci, siamo nel cuore del centro storico della città, siamo in Vico Veggetti, è un appartamento al terzo piano, molto ordinato, direi possiamo dire praticamente ristrutturato. Allora siamo nella zona giorno, dove abbiamo la cucina a vista e la zona living, questa è la cucina a vista, alle mie spalle c'è la porta d'ingresso blindata e questa è la zona giorno. Il riscaldamento ovviamente è autonomo, i vetri, gli infissi sono a doppi vetri in alluminio e qui abbiamo la prima camera, appartamente composto da due camere da letto, una zona giorno con cucina a vista e zona living e un grande e comodissimo bagno. Quindi questa è la prima delle due camere, dove abbiamo letto matrimoniale e armadio, molto caratteristici questi travi sui soffitti, questi travi a vista. Questa è la porta d'accesso, le parti comuni del palazzo sono state praticamente ristrutturate recentemente. Qua ci portiamo nella seconda parte della casa, dove abbiamo un bel bagno grande diviso in due parti, di fronte a me c'è la doccia e qui abbiamo la zona bagno con lo spazio per la lavatrice. Questa è l'esposizione e poi ci portiamo nella seconda camera che è composta da una zona di ingresso dove c'è la possibilità qua di mettere un armadio e la camera vera e propria con la finestra che ha la stessa esposizione di quella del del bagno. Quindi ripercorrendo un attimo qua siamo nella camera, qui alla nostra destra abbiamo la zona di armadio, qui abbiamo il bagno diviso in due, doccia e zona bagno, cucina a vista, portoncino di ingresso blindato, zona living e seconda camera, camera matrimoniale con spazio per l'armadio e qua terminiamo il nostro giro.